Molto bello chiaro, io improvviso, cioè io non mi sono mai preparato a fare, cioè mi sono preparato a quei libri, ho letto, ho studiato, ho viaggiato, però io a fare video, a parlare, a fare tutto questo, io improvviso faccio come sono, così come sono, non è che sto lì a pensare molto, anche quando il video non me lo sono preparato, stavo guidando e ho detto beh, ora faccio il video, mi sono fermato e... Come questo posto rende ste persone avide, aride, fiori morti su una lapide, anime al giro, dentro al traffico su cellulare, come se non ci fosse meglio da fare, dentro me è un mare Ciao a tutti, quello che vorrei fare è un po' un video, dopo tutto questo ciclo di interviste che ho portato nel canale, un video per dire un po' che cosa ne penso io di tutto quello che stiamo ascoltando, sta emergendo e sul quale si discute così tanto Bene, penso che innanzitutto il fatto che se ne discuta molto sia davvero un fatto molto positivo, ecco, quando io ho cominciato a fare questo tipo di divulgazione quello che volevo era, senza tanti giri di parole, creare un vero e proprio terremoto Credo che l'informazione di per sé della trappola della rincarnazione sia in grado di scatenare un vero e proprio terremoto Un'informazione di questo genere corroborata o in qualche modo sostenuta da numerosissime ricerche, numerosissimi testimoni, numerosissimi concetti Credo che possa scatenare ben più di un terremoto, credo che possa incominciare veramente a squarciare i veri di Matrix, credo che una cosa così potente non si sia mai prodotta da quando noi ne abbiamo memoria, quantomeno scritta Gli ignostici andranno molto vicino a determinate concezioni che abbiamo ora, possiamo attingere dagli ignostici una determinata consapevolezza, un determinato grado di coscienza E lo possiamo rapportare ai giorni nostri avendo sviluppato un linguaggio, avendo affinato degli strumenti, avendo in qualche modo rapportato la nostra vita alla realtà che viviamo Grazie anche alle scoperte scientifiche sul mondo, sulla realtà olografica, sul metaverso, sull'intelligenza artificiale, sulla realtà virtuale, sull'universo elettrico e tutte queste cose qua Cose che gli ignostici non potevano sapere ma che comunque ebbero intuito Quindi noi possiamo rapportare le loro intuizioni, il loro modo di spiegarle, il loro modo di concepirle a ciò che noi possiamo oggi chiaramente molto meglio spiegare con le parole che utilizziamo correntemente Direi che in tutta la storia conosciuta noi non abbiamo nulla che possa nemmeno avvicinarsi alla conoscenza che ci hanno portato gli ignostici Che è una conoscenza che è arrivata in maniera del tutto fortuita perché essi vennero perseguitati, vennero barbaramente perseguitati e tutto ciò che loro sapevano è stato messo in qualche modo Tutto ciò, una parte di quello che loro sapevano è stato in qualche modo dato alle fiamme, distrutto, però una parte di ciò che sapevano è arrivata a noi intatta in deleggiare Che sono state ritrovate a Nag Hammadi negli anni 50 Quindi abbiamo avuto questa fortuna che la possiamo considerare una vera e propria fortuna perché altrimenti noi degli ignostici non sapremo praticamente nulla Mentre invece ciò che emerge emerge una conoscenza della realtà che supera senza paragone la conoscenza della realtà che ci hanno trasferito tutte le altre correnti mistiche, religiose, spirituali, esoteriche Che si sono poi succedute nella storia Possiamo considerare praticamente tutto ciò che ci è giunto come fondamentalmente spazzatura, informazione corrotta, parziale, distorta, fuorviante Che non ha mai messo l'uomo in relazione col problema principale Il problema principale è di vivere dentro un universo fittizio, copia, corrotta di una creazione originale E tutti coloro che hanno in qualche modo parlato di questo l'hanno parlato in maniera in qualche modo anche un po' edulcorata Mettendoci dei tranquillanti spirituali che fondamentalmente tutto questo è volontà divina Che nonostante il mondo sia una specie di giungla o manicomio Esistono delle sfere angeliche, sfere di maestri ascesi, sfere di gerarchie, di spiriti più evoluti Che in qualche modo ci danno una mano, che in qualche modo ci guidano, che in qualche modo ci proteggono E che in qualche modo prima o poi verranno a salvarci Dunque, ora non per banalizzare o per sintetizzare in poche parole tutto ciò che ci hanno tramandato Tutte queste correnti, però più o meno è così Non è che abbiamo mai avuto grossa consapevolezza di un problema che invece è molto chiaro e molto netto Viviamo realmente in un universo olografico che qualcuno deve averlo costruito, qualcuno deve averlo architettato E il fatto che la vita su questo mondo sia sempre stato un vero e proprio calvario Quanto meno per la maggior parte dei suoi abitanti È un fatto che non si può discutere, è un fatto chiaro, matematico Quindi come mai l'uomo funge da batteria in questo universo? Come mai questo universo si nutre dell'energia umana? Perché come dicevano gli ignostici, per creare questo universo, il demiurgo, Yaldabaoth, come lo chiamavano loro, lo stolto L'architetto, prese dalla creazione originale la sostanza originale per creare questo Dopodiché per poterlo aggiornare come un vero e proprio sistema informatico, come una copia virtuale dell'universo originale Che cosa ha bisogno? Della stessa sostanza da cui è stato creato E chi ce l'ha questa sostanza? Dove la trova? Nell'anima, nelle anime, nella scintilla divina Che possiedono una certa quantità di esseri umani Non tutti, la minor parte Però quella che basta per dare la sostanza a Matrix Per potersi in qualche modo mantenere, sostenere ed aggiornare Il resto degli abitanti di questa Matrix o non hanno l'anima O l'hanno in maniera molto ridotta O hanno un'anima sintetica o spirito artificiale, come veniva chiamato dagli ignostici E fondamentalmente servono per i loro scopi Forniscono un certo tipo di energia Non forniscono il luscio, che è ciò che gli racconti prediligono Ma forniscono un certo tipo di energia, di informazione E soprattutto servono a mantenere tutto quanto in piedi Senza creare problemi Come noi abbiamo visto, per esempio, in pandemia Ci sono la maggior parte delle persone che accettano Magari borbottano, magari chiamano Però poi alla fine accettano tutto Possono ammettere la benzina a 10 euro Che borbotteranno un po' ma poi la pagheranno Invece ci sono determinate persone Che hanno un certo tipo di fuoco interiore Che non accettano Cioè devono subirlo tutto questo E ora abbiamo subito talmente tanto tutto questo Che alla fine abbiamo capito come mai tutto questo Si svolge in questo modo O incominciamo a capirlo Incominciamo a renderci conto come mai questo mondo non ci rispecchia Come mai in questo mondo non ci siamo mai sentiti parte Non ci siamo mai sentiti a casa Ci siamo sempre sentiti stranieri Ci siamo sempre sentiti, come dire, impossibile da incastrarci Poi uno, in un modo o nell'altro, si adegua Cerca di adeguarsi Cerca di portare il pane a casa Cerca di trovarsi un lavoro Cerca di andare avanti Cerca di abbellirsi la cella Però fondamentalmente dentro di sé sa che c'è qualche cosa che non quadra Come diceva Morfeo C'è qualche cosa Tu sei qua perché c'è qualche cosa che non quadra E questo qualcosa che non quadra non è un qualche cosa che non quadra Non c'è niente che quadra Non c'è nulla Nulla, assolutamente una cosa sola Che quadri, che vada bene Che sia così come dovrebbe Come ci si aspetta Che dovrebbe essere E questo ha rapportato sia alla matrix materiale Al mondo materiale Alla società Alla politica All'economia Alla civilizzazione A tutto quello che accade Un po' A livello materiale Nel mondo Non c'è una cosa che è come dovrebbe essere Se non veramente cose in cui ci si è sforzati enormemente Per metterle un attimino in sesto Ma altrimenti è tutto un casino Che non vale neanche io Vedete, io parlo di cose già di un altro tipo Perché parlare tutti i giorni di che cosa succede nel mondo I problemi La guerra La politica Questo e quell'altro È talmente tutto quanto un casino Che penso che non ci sia bisogno Che io sia un'ulteriore voce a descrivere tutto questo Credo che sia talmente chiaro tutto questo Che va bene C'è gente che se ne deve occupare Ognuno ha il suo ruolo C'è gente che deve capire tutti i problemi di matrix E stare lì meticolosamente A segnare tutte quante le reazioni avverse A segnare tutte quante I malori improvvisi A segnare tutte quante le malefatte di questo Di quello Di quell'altro Perché fondamentalmente Il loro ruolo Io ho fatto questo per tanti anni Poi mi sono stufato Voglio arrivare Come dire A colpire I sistemi I sistemi centrali Di tutto questo inganno E credo che questo sia Del massimo interesse Perché io ho Oltre 100.000 visualizzazioni Al canale Nell'ultimo mese E voglio dire Più migliaia Migliaia di persone Che mi seguono Nei vari social E quindi voglio dire Le persone Incominciano ad essere seriamente interessate A questo fatto qua Di andare a colpire Il sistema centrale Perché tutto il resto È solamente una mera conseguenza Di questo sistema centrale corrotto Che fa capo a questo demiurgol A questa intelligenza artificiale A questo dio stolto Come lo chiamavano gli ignossici O Samael Il dio stupido Come lo chiamavano Altre correnti ignossici Anche i catari Eccetera E dunque credo Che sia del massimo Del massimo interesse Andare a colpire Andare a colpire Il sistema nevralgico Il sistema madre Il centro E in questo modo Incominciare veramente A produrre una crepa Consistente E come detto Io quando ho incominciato Sapevo di avere Per le mani Un'informazione Che ha queste potenzialità E sicuramente Tutto quello che ha scaturito Negli ultimi due mesi Da quando ho incominciato A fare due mesi Ora non mi ricordo Neanche quanto Comunque qualche settimana Che ho incominciato A fare questo E' scoppiato Un pandemonio incredibile E ne sono molto contento Sono molto contento Che le persone In qualche modo Discutano questo Parlino di questo Si interrogano di questo Perché comunque È il primo passo Ecco il primo passo Di tante persone Che ora Per esempio Ci sono tanti youtuber Che hanno fatto Dei video Su questo Si sono cominciati A tirare A parlare di questo Fondamentalmente Non sapendone nulla Perché io Se uno scrive un libro Di questo genere Ha tutte queste informazioni La prima cosa che faccio Dico Senti Vuoi venire nel mio canale A parlarne Così magari Ne capisco qualcosa Non è che mi metto lì A dire la prima cosa Che mi passa Per la testa La prima cosa Che mi risuona La prima cosa Che mi aggiusta Un po' alla vita Al fine di rendere Di dare continuamente Questi tranquillanti Spirituali Sotto forma di cristallo Alle persone E in questo modo Le persone poi Che ti seguono Dicono ma si è vero Alla fine Certo Facciamocela andare bene In un modo o nell'altro Cioè non c'è niente Che deve andare bene Va tutto quanto smantellato Va tutto quanto preso Va preso il troppo Per le corna E gli va detto Che ora La finirà di colpirci E questo va fatto Come dire Anche in questo modo qua Anche in questa fase qua Le persone che cominciano A discutere Poi alla fine dei conti Ne discutono Ne discutono Ne discutono Poi però dentro Dentro la testa Gli rimane Gli rimane Questa cosa Sì ma Sto tunnel Cioè io mi trovo davanti Al tunnel Che devo fare Ci vado Non ci vado Allora Senti un po' Tu che sei Il mio youtuber Di riferimento Ci devo andare Nel tunnel Qual è la questione Sei capace A rispondere a questo Gira che ti rigira Gira che ti rigira Gira che ti rigira Nel tunnel Non ci devi andare Ci arrivate tutti Nel tunnel Non bisogna andarci Perché Perché il tunnel È il sistema Come dire Il sistema di parto L'utero Di Matrix In cui viene riciclata La batteria Di anima Di scintilla divina Al fine di perpetuare Quello che deve fare Dare sostentamento A Matrix Quindi potete girarci Intorno a quanto volete Quanto vi pare Di discutere Mi avete fatto Centomila Io non so C'è un periodo Che mi mandavano Continuamente i video Le reazioni Ai miei video Ma state a sentire Ma io A parte che non ho tempo Di salire da tutto questo Però per me L'importante è che voi Ne parliate Che ne discutiate Che mi avete fatto Centomila Commenti Video contro Contenuti contro Mi avete fatto chiudere Il profilo di Facebook E la pagina di Facebook Mi avete hackerato La postpay E rubato Oltre 500 A me Sono ancora qua Sono ancora qua Più esplosivo Di prima Cioè c'è un fuoco Dentro Che non Non so neanche Come fare io A gestirmi Certe volte Non mi intimorisce Niente e nessuno Cioè non ho paura Di niente e di nessuno Io posso andare Ora sono stato Su dei canali Importanti Ho appuntamenti Con canali Molto importanti Mi possono invitare Domani Mi possono invitare Domani pomeriggio A pomeriggio 5 Sul rai 1 Ok Io non ho paura Di mettermi davanti A milioni di persone A dire queste cose qua Voi Si parte Dal presupposto Molto chiaro e semplice C'è un tunnel di luce Devo entrare o no Se devo entrare perché E se non devo entrare perché Questo è il problema Non è che c'è da fare C'è da fare Cent'anni Ci sono cent'anni Di interpretazione Esoterica Rispetto a questo Mi piace essere molto Chiari e schietto C'è un tunnel di luce C'è un giardino C'è un vecchio di merda Con la barba Che ti attende Col libro del tuo karma Ci sono quattro Travestiti da angeletti Che ti dicono di seguirli Che ti danno i loro consigli Ti resettano la memoria E ti mettono nel tunnel E' affin di bene questo qua Pensi che sia affin di bene Sì no Non è che puoi stare lì Tutta la vita Dobbiamo ricapitolare Tutto l'esoterismo Tutto l'ho già fatta Io la literature review L'ho già fatta Di tutto l'esoterismo Ho girato tutto il mondo Ho parlato con i mistici Con i saggi Di qualsiasi corrente esoterica Prima di pubblicare il video Stavo parlando Con i più importanti Esoteristi italiani Che poi alla fine Ho mandato dal diavolo Perché non riuscivano a capire L'importanza cruciale Di questo argomento La volevano continuare A mistificare A fare A fare Su e giù E alla fine dei conti Verrete travolti Cioè verrete travolti Da tutto questo Quindi Io non è perché sono io E allora io devo avere Ragione Io porto l'informazione Che ho raccolto In innumerevoli luoghi Facendo continuamente Alcune interviste Ma io ho intervistato Gli yoghi Sciamani Di tutto il mondo Cioè io sono andato in giro A parlare con gli esperti Di queste cose In tutto il mondo E ciò che mi ha convinto Ora lo dico Ciò che non mi ha convinto Lo reputo spazzatura Che ha mantenuto L'uomo schiavo Fino ad oggi Quindi Non è il fatto che io Allora io ho ragione Poi a parte che io A me non mi piace avere torto Io se devo dire una cosa Perché come dire Il mio intuito Il mio discernimento Perché io non voglio mai Parlare dei miei poteri Perché non voglio in qualche modo Contaminare la ricerca Però io ho dei poteri Io vedo le cose Le vedo molto chiaramente Le cose E dunque mi interessa Corroborarle Facendo parlare anche altri Facendo parlare altri ricercatori Facendo parlare Chissà Chi mette le mani Chi fa l'ipnosi Chi fa lo sciamano Chi fa questo Chi fa quello Al fine di non essere solo io A dire questa cosa Ma ad avere tante persone Che dicono questa cosa Con tanti strumenti diversi Quindi non è che io voglio avere ragioni Io so Che questo è un problema Chiaro ed evidente Io lo so Che in mezzo mondo In cui vai Che si occupano di questo Ti dicono di andare nella luce Io lo so che la new age È su tutte le furie con me Perché dico che nel tunnel di luce Ci sono Ci sono degli arconti O esseri oscuri E non gli angioletti Benevoli che credono loro Ma è chiaro che sono esseri oscuri È chiaro che non sono esseri benevoli È chiaro che il reset della memoria Con debito karmico installato Al momento della incarnazione Non è affin di bene È chiaro È ovvio È palese Quindi non è che io voglio avere ragioni È che è così È che appunto è così Ma io ora Perché in questo video Lo guarderanno 3, 4, 5 mila persone Col tempo Ma potrei andare su Rai 1 A parlare in stasera In mondo visione di questo Cioè attenzione Questo è un fatto indiscutibile Questi sono fatti indiscutibili Che vengono rilevati Da così tante persone Che è inutile Mettersi contro Cioè è proprio inutile Sono troppe persone Troppa gente C'è troppa informazione Rispetto a questo Mi sta emergendo Un fiume in piena Quindi è inutile Che cercate di mistificare Di adulcorare Volete avere la speranza Che no ma dai Figurati questi angeli Devono essere angeli veramente Ma no figurati i maestri ascesi Devono essere lì veramente Ma no ma dai Ci stanno dicendo In 30 milioni di canalizzazioni Che i pleiadiani Stanno arrivando Come pretendi Che non vengano davvero Cioè come pretendi Sono intelligenze artificiali Vi stanno depredando la psiche Vi stanno disnescando In questa perpetua attesa Che qualche cosa accadrà Perché voi non siete capaci di farlo Allora se voi volete avere L'ultima speranza L'ultima speranza Che è l'ultima Avete bisogno di questa speranza No d'accordo Avete bisogno di sperare In qualche cosa In qualche uno In questa delega Che finalmente Qualche uno accetterà Di farsi delegare Il vostro potere Bene Tutte queste speranze Sono demolite Ormai sono demolite Non so che cosa Vi aggrappate più Ma se proprio volete Quest'ultima speranza Allora l'ultima speranza Ce l'avete dentro di voi Ce l'avete dentro di voi Nel vostro spirito Nella scintilla divina Non c'è niente Nessun altro Che verrà a darvi Quello che voi già avete D'accordo? Nessuno di superiore Ammesso che esista Qualcuno di superiore In Matrix a noi Che non esiste nessuno Di superiore a noi In Matrix Perché ci sfruttano Perché noi abbiamo qualcosa Che loro non hanno Ammesso che esistesse Qualcuno di superiore Non ti verrebbe mai Ad aiutare Sai perché? Perché sei in grado Di farlo da solo Non concepirebbe proprio Il fatto che ti deve aiutare Quando noi riusciamo A relazionarci Che è molto difficile Relazionarsi con esseri Di vero aiuto Ma cosa vi crede? Che veniamo lì A fare che cosa? Che lo potete fare Benissimo da soli Come avete fatto A non rendervene conto Fino ad adesso Che la reincarnazione È una trappola Dove vivete? Ma in che mondo vivete Che non vi rendete conto di questo? Questo è quello che dicono Questo è quello che hanno portato Le persone che ho intervistato Le persone con cui parlo Le persone con cui Cerco di portare avanti Questo tipo di discorso Perché non ce ne sono altri da fare Cioè non ci sono altri discorsi da fare Pertanto Nelle interviste che ho fatto È chiaro che ognuno poi Porta la sua esperienza Io tra l'altro l'ho scritto Nel commento Che metto anche in evidenza Così tutti lo possono vedere Nell'intervista C'è l'intervistato Che dice la sua opinione Che racconta la sua esperienza La sua testimonianza Frutto dei suoi rilevamenti Non vuol dire Che sta dicendo Tutto quello che penso io In grossa parte Poi si vede dalle mie espressioni Eccetera In grossa parte Dicono le cose Che o so già Che considero vere O che voglio approfondire Però non è detto Che tutti abbiano detto Tutto ciò che io penso Assolutamente no Io ho la mia visione La completo Perché naturalmente Io non so tutto Sto ricercando La completo Con le visioni degli altri Con le ricerche degli altri Al fine di dare Sempre più sostenibilità Alla tesi centrale Al fine di ampliarla Perché naturalmente Il tunnel di luce È l'elemento centrale Del puzzle Ma è tutto il puzzle Bisogna ancora costruirlo Per esempio Il fatto dell'evoluzione Che noi viviamo In un mondo Che finge di evolvere Che crede di evolvere Che in cui è specificato Insito Praticamente È una natura Che bisogna evolvere Bisogna fare qualche cosa Per rendersi migliori Un qualche percorso Un qualche percorso Di miglioramento Così alla fine Si sarà di gradimento Verso il Santo Padre O verso i maestri ascesi O verso il proprio Fenomeno misterico Di riferimento Non c'è bisogno Di fare tutto questo Non c'è bisogno Di fare niente Di tutto questo Una lotta Una fatica Che non ha mai prodotto Nessun risultato Che cosa è necessario fare? Fare pace con se stessi Essere in pace con se stessi Essere amici di se stessi Credere in se stessi Avere fiducia in se stessi Basta Basta Capire che questo è un gioco Un videogioco senza senso In cui l'evoluzione Per non essere perfetta È semplicemente Insensata Inutile Una semplice perdita di tempo In cui Che cosa bisogna fare? Estrarsi Sottrarsi Uscirne Stiamo cercando di capire Qual è la maniera più efficace Di uscire di qui Di uscire da Matrix E di questo naturalmente Occorre parlare Di questo naturalmente Bisogna Mettersi un po' In tante teste Per cercare di capire Qual è la soluzione C'è la soluzione Che ha fornito Malanga C'è la soluzione Che fornisce questo C'è la soluzione Che fornisce quello In ogni modo Quello che io credo Che la cosa fondamentale Da fare sia Decidere Decidere Ora adesso stesso È la mia ultima Partecipazione In Matrix Non parlo neanche Di incarnazione La mia ultima partecipazione Qua dentro Non voglio più saperle Non voglio mai più Fare parte Di questo ologramma Di questa intelligenza artificiale Che mi sfrutta Perché non può da sola Andare a prendersi Le informazioni Le esperienze Le emozioni I ricordi E tutto quanto L'energia Che io sprigiono In forma di luce Durante la mia incarnazione Basta È finito Non darò retta A nessuno di quegli idioti Che presiditano il tunnel Non darò retta A nessun tipo di entità Voglio semplicemente Andarmene di qui Ora le persone dicono Andare dove Andare a fare che Com'è Non lo so Non mi interessa Lo vedrò Lo scoprirò Non mi interessa Assolutamente Farmi Soggiogare Dalla paura Rispetto all'ignoto Puoi vagare Nell'universo Per sé L'universo è Matrix L'universo Per come noi lo conosciamo È Matrix E non è un universo Non è un universo Come ce l'hanno fatto capire Come ce l'hanno cercato Di far Inculcare nel cervello Non è un universo Di questo tipo È un universo Allografico Un universo artificiale Un universo virtuale Di cui vediamo Solamente ciò che noi Dobbiamo vedere Per credere Di essere distanti Da tutto quanto Per essere In un Voi guardate Quando guardate il cielo La notte Non lo vedete Che è un cielo freddo Che è un cielo distante Che è un cielo sinistro Che è un cielo Che non ti trasmette Nulla di buono Io non riesco a capire Tutti questi Che dai all'universo L'universo Ti restituirà L'universo è pace e amore Ma non lo vedete di notte L'universo Che non è nessuna Un universo sinistro Buio Scuro Tetro Non lo vedete questo Dunque Ci fanno vedere Solamente quello che serve Per sentirsi distanti Fondamentalmente Distantissimi Da qualsiasi forma Di potenziale aiuto Cioè devono proprio Venire qua Ad aiutarsi Noi non possiamo andare Da nessuna parte Giusto? Mentre invece Io credo Che la scintilla divina Sia capace di rendersi conto Di andare dove cavolo vuole La cosa fondamentale Che io credo Che al momento della morte Bisogna attendere Il più possibile Affinché si renda chiaro Lo scenario Perché naturalmente Tutte le religioni Ti mandano nel tunnel Vai nella luce Corri nella luce Ci sono quelli Che ti dicono Vieni Vieni nella luce Vieni Ti stanno aspettando Sarai perdonato E quant'altro Tu che cosa fai? Vai In 4-4-8 Sei già lì dentro E poi torni da capo Mentre invece Se tu rimani un po' lì Piano piano Ti rendi conto Di quello che è E lo scenario Di quelle che sono le cose E Acquisti il tuo potere Acquisti la tua memoria Acquisti La connessione Io penso che In questo modo qua Uno Naturalmente Se ha Consapevolezza Di questo Questa consapevolezza Se l'hai costruita in vita La cristallizzata in vita A quel momento lì Può andarsene Se ci possono essere Ritorsioni Se ci possono essere Ostacoli Bene Stiamo cercando di capirlo Vedremo Ma io credo Che da ora in poi Cioè da due mesi A questa parte Così tanta gente Si interesserà a questo Così tanta gente Vorrà saperne Di quanto tanta gente Non è Non è un po' più Di stare in Matrix Ma io attenzione Non è che Sono un insoddisfatto Della vita Sono uno che non è Un po' più Della vita Che la vita Io faccio quello che voglio Da anni Lo dico sempre Io non sono Uno scontento Uno Uno che si è rotto le scatole Io anzi Spero di vivere Il più tempo possibile Perché mi diverto Perché mi piace anche Stare in Matrix Finché ci devo stare Ho capito tante cose Di come arrangiarmi L'esistenza Di come fare Determinate cose Mi interessa farlo Mi piace farlo Oltretutto Ho delle persone Con cui vorrei stare Il più tempo possibile E poi Me ne andrò Però Fino ad allora Io non sono uno scontento Della vita Cioè Non è che io parto Da una posizione Di nichilismo Di misantropia Di cose Parto da una posizione Proprio logica Logica Sono in un universo Di contenimento Non ci voglio stare Mi merito di meglio Voglio andare Dove Dove penso che sia meglio E dunque Penso che con questa Consapevolezza Applicata A Alla riacquisizione Al Riavere Il proprio potere Durante La fine della vita Perché da quello che si capisce Si ha molto più potere lì Non si ha il peso del corpo Non si ha il peso Delle malattie Della vecchiaia Di tutto quanto Si ha Molto più leggeri Molto più liberi Molto più limpidi Si possa letteralmente Decidere di andare via Dove? Alla fonte Io voglio andarmene Alla fonte Almeno dieci giorni A riprendermi un po' D'accordo? Poi penso che dopo dieci giorni Mi stusserò di stare lì A non fare niente Magari mi studierò Qualche altro tipo Di esperienza Andrò in un altro mondo Andrò a fare un'incarnazione Nell'altra parte Vedremo Però per adesso Quello che vorrei fare È avere dieci minuti di riposo Dieci giorni di riposo Quando avrò finito Questa incarnazione E quindi Questo a me Non mi spaventa Anzi A me Non c'è nulla Che mi spaventa E probabilmente A questo a me Mi ha preparato Anche il fatto Di aver vissuto Tanti anni per strada Cioè io non è che Ho vissuto proprio Come un barbone Attenzione Io me la vivevo Allegriamente Cioè vivo con il mio zaino Andavo in giro Mi piaceva stare per strada Mi piaceva stare con la gente Della strada Che oggi vabbè Oggi non è più come prima Ma prima andavi In qualsiasi città d'Europa E anche non solo d'Europa E c'erano tantissimi ragazzi Alternativi Underground Hardcore Squatter Anarchici Raver Tutto questo Che stavano per strada Si occupavano le case Mi piaceva Mi piaceva da pazzi Andare con il mio zaino Andare in giro Poi Mi sono stufato Di un certo tipo di ambiente Ma ho continuato a farlo Per i fatti miei Per andare a fare le foto Per andare a fare i reportage Per vedere il mondo Per scoprire le cose Per parlare con i saggi Per fare un sacco di cose E quindi Io non ho paura Proprio di niente Di nessuno Perché mi sono trovato Faccia a faccia Con qualsiasi tipo di esperienza Qualsiasi tipo di situazione So riconoscere Qualsiasi persona Che vedo Che mi parla Che con cui ha a che fare Da un semplice sguardo Quindi non riesco a capire Dove può essere il problema Di avere a che fare Con questi Con questi esseri Di intelligenza artificiale Esseri Di materia inferiore Esseri astrali Cioè A me non ho nessun paura Di niente Di nessuno Quindi Probabilmente a me Mi ha aiutato quello Poi ci sono persone Che si possono spaventare Ho capito Io non è che posso Posso come dire Farlo per voi Cioè vi dovete Vi dovete In qualche modo equipaggiare Vi dovete in qualche modo Preparare a tutto questo E dunque Rispetto a questi argomenti Ho un po' Chiarito il mio punto di vista Ora Naturalmente Sto già scrivendo Il secondo libro Sulla trappola Della reincarnazione E sulla concezione Di Matrix Universo olografico Sulla Falsa evoluzione Di questo mondo Su perché tante persone Non riescono A farsi andare giù Tutto questo Quali tipo di speranze Si aggrappano E perché Dietro ci sono enormi business In certi casi In altri casi C'è proprio una paura O c'è proprio Una forma di Irremovibile ingenuità Ma comunque Parlerò diffusamente Di queste cose qua Ci sarà un lunghissimo capitolo Dedicato alle persone Che mi hanno scritto Parlandomi della loro esperienza Sia col tunnel Che col giardino Nell'esperienza di premorte Dei loro ricordi Delle loro Delle loro Ricerche E quant'altro Poi A me Mi hanno scritto Veramente Negli ultimi Da quando ho fatto Il primo video Su questo Che ho ricominciato A fare i video Alla fine di quest'estate Mi hanno scritto Almeno un milione Di persone Io non so neanche più Quantificare Quante persone Mi hanno scritto E vorrei dire Semplicemente questo Io L'ho già detto Lo ripeto Non ho tempo Di poter rispondere Decentemente a tutti Perché se lo facessi Io vivrei Praticamente Tutto Non potrei neanche più Andare a dormire E vivrei semplicemente Rispondendo alle persone Che mi scrivono Rispetto a tutto questo Io Vi ringrazio Vi sono veramente Veramente riconoscente Ho ricevuto Così tanti Attestati di stima Di rispetto Di gente Che mi dice Continua Di gente Che mi dice Finalmente uno come te Di gente Che mi dice Tante belle cose E vi sono veramente Grato 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 Dal più profondo Del cuore Ed è fondamentalmente Perché ci sono tutte queste persone Che vogliono sapere questo Che io So di poter andare avanti A portare avanti Degli discorsi Perché c'è gente Che è seriamente interessata A saperli Per farci qualcosa Di immediato Per immediatamente Riuscire a capire Dove ci troviamo E come incominciare A tirarcene fuori Però Non è che posso stare Tutto il santo giorno A parlare di questo A parlare di quel problema A starti dietro su quello A starti dietro su quell'altro Io non è che sono Cioè io non è che sono Il call center Degli scontenti Di Matrix Non so neanche come dirlo Se avete qualche cosa Di estremamente importante Io continuo a lasciare Il mio numero E lo potete fare Ma se mi dovete raccontare Che avete besticciato Con la zia Che la benzina è cara Che questo Che quello Io non è che posso risolvere I problemi di tutti E a certe volte Mi tocca anche un po' tagliare Non è che posso stare lì Tutto il santo giorno A rispondere Soprattutto quando Quando mi scrivete Fate una domanda Concisa Aspettatevi una risposta Cioè non è che io Vi rispondo Allora dobbiamo Incominciare a parlarne Tutto il giorno Cioè non voglio essere Come dire Mi dispiace anche Non voglio essere Cattivo In un certo punto di vista Però non posso Io ho da fare Ho seriamente da fare Cioè A parte avere una vita Che ormai Insomma Ormai è la mia vita Fare tutto il giorno Questo Perché questo mi prende Tutto il giorno Però avrei anche una vita Avrei anche Bisogno di dormire Ogni tanto Avrei anche bisogno Di stare in pace Ogni tanto Oltre a fare video Fare ricerche Scrivere libri Interviste E quant'altro E oltre a questo Stare dietro Alle centinaia di persone Che mi scrivono Tutti i giorni Tutto il giorno Senza tregua E senza sosta Cercate di capire Che c'è un limite No? C'è un limite Volete scrivere Bravo Grazie Benissimo D'accordo Se vi rispondo Non vuol dire Che dobbiamo parlare Tutto quanto Perché io non posso Mi dispiace Però non posso Non ho proprio Non posso clonarmi In 4 o 5 Ma 5 quasi non basterebbero In 10 persone Che fanno tutto questo Non posso Quindi se avete cose Importanti Rilevanti Da dire Fatelo Aspettatevi Una risposta Poi boom A meno che non abbiate qualcosa Di ancora più importante Da dire Poi basta E' così che funziona Funziona così Nella vita ordinaria Quindi funziona così Anche con me Che poi Voi vediate Che io sono una persona Genuina Autentica Che giro col camper Non me ne frega Un cazzo Di formalità Non me ne frega Un cazzo Di formalità Non me ne frega Non ho mai Mezzi termini Sono schietto Di ratto Sincero Ho capito D'accordo Ci siamo Però non è che io Per questo Posso essere Spremuto Giorni e noti Da tutti i vostri Patemi esistenziali D'accordo Ho reso possibile Fare dei corsi Col transurfing Di 30 minuti O un'ora Questo vuol dire Che durante la 30 minuti Possiamo parlare Di quello che volete D'accordo Vi potete preparare Possiamo parlare Di tutto quello Che non avete capito Tutto quello Che potete approfondire Su di voi Allora va bene Però io Altrimenti Non è che posso stare Tutto il santo giorno A parlare Di due dei vostri problemi Perché io ho anche Una cavolo di vita Detto questo Rispetto alle interviste Se posso Concludere Un po' L'argomento Continuerò a portare Tra l'altro È molto difficile Riuscire a portare Persone Che siano già andate Oltre Le sembianze Un po' Del mondo astrale Veramente Molto molto Complicate C'è gente Che ancora Si aggrappa Troppe speranze Per essere portate Come dire Dove voglio io Al pubblico Che intendo portare io Quindi molte volte Conosco persone Parlo Però poi sono io Che alla fine Gli devo spiegare le cose Che quindi Non è un'intervista Il mio monologo E quindi Lasciamo perdere Me lo faccio da solo Un monologo Come ora Non è che ho bisogno Di mettere qualche Uno qua Che ascolta Il mio monologo Giusto Quindi è molto difficile Portare persone Che abbiano già sfondato Un certo tipo Di crepa Nel muro È molto difficile Parlare con determinate persone Perché nessuno Fa come me Che mette il proprio numero Lì a disposizione Di tutti Quindi è molto complicato Però insomma Piano 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 Come dire Le persone In cui in un modo Nell'altro Si devono rendere conto Di questo problema Della trappola Della reincarnazione Del fatto di vivere In un universo Senza senso E di cercare La via di uscita Perché io credo Che quando noi Usciremo di qua E penso Ora Prima Tante volte Ho detto Non è che sto Organizzando Delle evasioni Delle evasioni di massa Ma invece sì Io dobbiamo veramente Organizzare una specie Di evasione di massa Su vasta scala Di scintille divine Che portano via Le scatole E questo mondo Semplicemente Crollerà Perché lui si perpetua Come ho detto all'inizio Grazie alla nostra Scintilla divina Grazie al luscio Che noi emettiamo Ed è ciò Che rende possibile L'aggiornamento Del sistema informatico Di intelligenza artificiale E quant'altro Comprende tutto questo Altrimenti no Altrimenti Rimenderebbe come dire Un mondo di plastica Un mondo sintetico Abitato solamente Da gente Di spiriti artificiali Ilici sintetici E quindi Il colpo Che noi abbiamo Per le mani Che possiamo compiere È veramente clamoroso Ecco Senza precedenti Se noi usciamo di qua Matrix crolla Cioè crolla Nel vero senso Della parola E dunque Dobbiamo renderci conto Anche di questo potere Che abbiamo Cioè noi abbiamo Un potere incredibile Cioè noi invece Di intimorirci Perché nessuno Ci ha mai raccontato Queste cose Ma le sappiamo Ma è un po' Che ci stiamo ambientando Acclimatando a questo tipo Di informazione A questo tipo Di consapevolezza Che cosa vuol dire Che noi abbiamo Un potere incredibile Che tutte queste entità Che ci sono Non fanno altro Che cercare di prendercelo Perché noi non ne siamo Consapevoli Ma una volta Che ne diventiamo Consapevoli Li fulminiamo Ma li fulminiamo Seriamente Quindi rendiamoci conto Di veramente concreto Quindi Tenta stare lì Negli anni Nei secoli A discuterne Ora Nei miei libri Fortunatamente Non accadrà mai Perché io scrivo Chiaramente Tutti devono immediatamente Comprendere cosa ci ha detto Però nei libri Dell'esoterismo classico Cioè ci sono ancora oggi Persone Che libri di 200 150 anni fa Sono lì a cercare Di capire quella frase A cercare di decrittare Questo minestrone Criptico Che cosa avranno mai scritto Che cosa mai avranno voluto dire Cerchiamo di fare questo percorso Per vedere se funziona Ma quando mai Avete dato solamente spazzatura Avete prodotto solamente spazzatura Che vi ha depotenziato Le cose che dico io Sono immediatamente capibili Ognuno le può capire immediatamente E tra l'altro Facendo questo tipo di divulgazione Mi sono reso conto Che esiste veramente Questa differenza Tra ilici, psichici e pneumatici Perché i veri pneumatici Capiscono subito Quello che dico Capiscono subito Questo tipo di informazione E cercano di implementarla Immediatamente Nella propria vita Poi ci sono Diversi gradi di psichici Che in qualche modo Arrivano Altri che invece Vengono trattenuti dal basso Esattamente quello che dicevano Gli ignostici Psichici bassi Che vengono trattenuti Dall'illico Dal materiale Dalla speranza Dalla fede In qualche cosa Ma poi arriveranno Piano piano arriveranno Anche loro Mentre poi ci sono quelli Che proprio Caput Non c'è niente da fare Psichici molto bassi Finiti nella rete Della New Age Nella rete arconte Della Gestapo New Age Che sono i sicari I sicari terreni Che ti vogliono mandare Nel tunnel di luce E ho testimoni di luce Come i testimoni di Geova Dipende Ci sono quelli molto 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 aggressivi Che io Mi hanno fatto centinaia Di video contro Quindi ormai li conosco Quelli molto aggressivi Come la Gestapo Che ti devono mandare Nel tunnel di luce Costi quel che costi E quelli un po' più Mansueti Tipo i testimoni di Geova Che ti mandano un link Ti mettono il post Ti chiedono Ti fanno In modo in modo Che tu piano piano Te ne vai in questo Maledetto tunnel di luce Ci sono Lore Poi ci sono gli Illici Che vabbè Sono quelli che di queste cose Non possono interessarti Perché non è una cosa A cui possono partecipare Non avendo scintilla divina Allora Come dire Non è una cosa Che li riguarda Ecco Detta proprio Come va detto Quindi Facendo questo tipo Di divulgazione Mi sono reso conto Che questo è proprio vero E proprio vera Che c'è questa divisione Tra gli esseri umani E insomma Io cerco di parlare Da un certo livello in poi Perché poi con gli altri Non è che posso andare A raccattare tutti Per strada Non è che sono un croce rossino Quindi Cerco di parlare Come mi viene Parlare come sono E so che a determinate persone Arriva subito Quello che deve arrivare E si cerca poi Come dire Di creare una rete Energetica Metaforica Nel mondo Di persone Che veramente Sono pronte A portare via le scatole Da Matrix E o a prenderne il controllo Perché Non escludo Che noi potremmo Anche prenderne il controllo A un certo momento Per farne diventare Un mondo Come dire Un mondo di vita normale Ecco Dove si può godere Della vita Naturalmente Con gli ostacoli Giusti Necessari Perché se no È anche una palla Non avere mai un problema Però Insomma Ragionevoli Non come ora Che tutto un casino È sempre stato un casino Anche la catena alimentare Sarebbe da completamente Da rovesciare Finirla di far soffrire Un animale Sull'altro Questa perpetua competizione Questo Io ti mangio Tu mi mangi Che fa parte Della catena alimentare Di questo mondo Che può essere solo Il parto Di un dio perverso Di un dio malato Di un dio folle Che ha bisogno Naturalmente Di nutrirsi di morte Sofferenza perpetuamente Perché ricordo La sofferenza Che tutti emaniamo Viene 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 Mangiata Dagli oscuri Mentre l'adorazione La speranza E tutte queste cose qua Viene mangiata Da entità Che prediligono Questo tipo di pasto Eh Mi piace più Questo tipo di luce Questo luce di adorazione Quindi Rispetto a questo Che cosa fare Neutralizzarsi Cercarsi di neutralizzarsi Il più possibile Polarizzarsi A ore 1 Rispetto all'orologio Leggermente folli Moderatamente allegri Inafferrabili Inafferrabili Questo è il concetto Che diceva anche Castaneda Rendersi inafferrabili Sono tutte cose Che parlerò nel libro Sia in Bardo Arconte Che in Quinta via Che sono i due libri Che sto Per portare Alla pubblica attenzione E niente Volevo un po' Come dire Parlare un po' Delle cose Che sono emerse Negli ultimi Nelle ultime settimane Con le interviste Perché non ho più Fatto video mia E facendo parlare Gli altri Oppure essendo intervistato Da altre persone Ora volevo dire Un po' Come la vedo io Come la percepisco io Come la concepisco io E insomma Spero di essere Stato abbastanza chiaro Spero di essere Stato abbastanza chiaro Ora Prossimamente Riuscirò In qualche modo Finalmente A mettermi in condizione Di avere anche Degli apparecchi Un po' Più Più buoni Perché Io quando ho incominciato A fare questi video Avevo 200 iscritti Nel canale Ora ne ho 4.000 Una settimana prima Saranno 5.000 Crescerà tutto questo E quindi mi devo anche Mettere in condizione Quindi Mi piacerebbe poi Cominciare a fare Delle live In cui posso portare un argomento E poi le persone Ne possiamo discutere Posso rispondere ai commenti Possiamo fare delle cose Per progredire tutti insieme Perché io non è che voglio essere Il capo di niente O il guru O il maestro di nulla Io Sono un canale Della rivelazione Sono un canale Dell'apocalisse D'accordo? Cioè qualche cosa In me che recepisce Determinati dati Li sa mettere insieme E poi la mia Che è una delle mie passioni Fare ricerca Mi spinge ad avere Sempre più dati possibili Cercare di metterli insieme Ho un certo tipo Di settimo senso Intuito e discernimento Che mi aiutano In qualche modo A collocare le cose Dove devono stare E quindi è naturale Che sia un canale Però Mi piace anche Come dire Andare avanti insieme Alle persone E non andare da solo Mi piace che ci siano persone Che partecipino Che mettono loro Che si possono confrontare Ora naturalmente Nei canali telegrammi Nei commenti Non è che posso stare dietro A tutti A tutto Perché naturalmente Non è possibile Però Comunque mi piace Che ci sia questa partecipazione Delle persone Di modo che Insomma Si proceda insieme Che i passi Si facciano insieme In modo anche Che nessuno rimanga indietro E che se qualcuno Rimane un po' indietro Lo si aiuta Perché questo è fondamentale Bene Sono arrivato a 40 minuti Non so quante ne ho dette Perché poi quando comincio a parlare Cioè io Non finirei mai Però poi ho anche Delle ragioni di spazio Di tempo In cui Devo in qualche modo Trovare Il modo di chiudere Va bene Ci sentiremo presto Ci sentiremo Con nuove tematiche Ora volevo fare Un video così Riassuntivo Di questo ultimo periodo Poi procederò Di nuovo Tema a tema E appena il libro Sarà pronto Discuterò anche I temi centrali Del libro Perché Insomma Io non ne ho mai parlato Perché naturalmente Voglio che i libri La gente li legga È inutile che mi metto io qua A spiegare il libro Sennò poi non se lo legge nessuno Quindi Cioè È anche ovvio che sia così Però poi comincieremo a parlare Anche di certi aspetti Del libro Di certi aspetti Di certe tematiche Approfondire Certe determinate tematiche Al fine di avere Una comprensione Una dimestichezza Con i temi Il più possibile Profonda Possibile Credo che questo Sia essenziale Sia essenziale Partecipare Produrre Sia Un filone logico Filone logico Di dati Di comprensione E sia Un filone Come dire Esistenziale Di come fare Di fronte a tutto questo Credo che queste due cose Devano andare di pari passo Naturalmente Le due Le due Si devono rapportare Le une con le altre Per Per fornire una completezza Una completezza Per 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 tutto Per tutto Perché veramente Mi rendo conto che Molte persone Hanno bisogno Di quello che sto facendo Molte persone Me lo dicono Molte persone Me lo scrivono Molte persone In tutti i modi Cercano di trasmetterlo Sono stato invitato Non lo so In almeno 500 case Vieni Ti ospitiamo Vieni qua Ti puoi mettere col camper Vieni Puoi stare Ti organizziamo una conferenza Facciamo Piano piano Faremo tutto Piano piano Vediamo un po' come si sviluppano le cose Faremo tutto Io ora Ho iniziato con 200 iscritti Che erano più che altro amici Ora Incomincio ad avere 100.000 visite Al profilo Ogni settimana Al canale Ogni Ogni mese Incomincio a diffondersi Un po' questa cosa qua Ed è chiaro che piano piano Incomincerò anche a Come dire Capire come fare A gestire tutto questo Perché io Comunque Ve lo devo dire Molto bello chiaro Io improvviso Io non mi sono mai preparato A fare Mi sono preparato A quei libri Ho letto Studiato Viaggiato Però io a fare video A parlare A fare tutto questo Io improvviso Faccio come sono Così come sono Non è che mi Sto lì a pensare molto Anche quando Il video non me lo sono preparato Stavo guidando Ho detto Beh Ora faccio il video Mi sono fermato E faccio il video Cioè Sono spontaneo Sono improvviso Quindi Piano piano Dovrò anche capire Come Come portare Come portare Tutto In tutti i canali Possibili Immaginabili Perché è necessario Che le persone In qualche modo Tutte le persone Che hanno l'anima Si rendano conto di questo E che gli venga spiegato Per file per segno Quindi io vi ringrazio Per tutto quanto Vi ringrazio davvero E niente Andiamo avanti Andiamo avanti Anche perché indietro Non si può andare più Ciao Ciao Grazie Come questo posto rende Ste persone avide Aride Fiori morti Su una lapide Anime al giro Dentro al traffico Su cellulare Come se non ci fosse Meglio da fare Dentro me è un mare Che anche per la tua Che waren